I'm Back è una startup nata qui a Lugano nel 2018, noi trasformiamo macchine fotografiche analogiche in digitale, è un sistema che si aggancia al dorso della macchina fotografica analogica, abbiamo integrato un adattatore universale che si aggancia praticamente al 99% delle macchine fotografica analogiche. L'idea nasce da Samuel Mello Medeiros, con il problema di dare una seconda vita a queste macchine, lui si è ingegnato e ha inventato questo dorso digitale. Quando ci siamo incontrati c'è stato subito un ottimo feeling, quindi insieme abbiamo detto perché non lanciare questo prodotto sul mercato e abbiamo deciso di lanciarlo sulle piattaforme crowdfunding, è andato molto bene, abbiamo raccolto in totale un milione di franchi circa. Una fotocamera analogica come questa qua, la possiamo trasformarla in digitale, e come? Noi abbiamo disegnato almeno 40 modelli diversi di questi che noi chiamiamo cover, la chiudiamo, mettiamo una vizia, una volta che abbiamo messo questo coperto, questo è il cuore pulsante di tutto quanto, qui dentro abbiamo un sensore da 16 megapixel che è più che sufficiente per quello che facciamo, la tacchiamo in un paio di slite, abbiamo due clanti laterali qua per bloccaggio, quindi fatto questo, ecco. Si carica la fotocamera come una volta, quindi bisogna fare questo esercizio di mano qua. abbiamo la foto, quindi abbiamo sviluppato anche questa app qua, colleghiamo la nostra vecchia fotocamera al nostro smartphone e possiamo trasferire le fotografie che sono qua, qua. Ma la cosa vera è che possiamo anche avere un live view, quindi collegare la lineback a questa app qua. Posso addirittura scattare fotografie utilizzando questo come un remote control, quindi posso cliccare qua e iniziare a fare un video, potete usare questo anche come una vintage camera video e potete utilizzare questo per comandare lei mentre fate la ripresa. C'è un interesse importante nel mondo dei fanatici oppure degli amanti dell'old fashion, dell'analogico anche, sono veramente quelle persone che si aspettavano da decenni una soluzione simile. In questo momento abbiamo però pensato anche a fare un passo ulteriore, stiamo sviluppando una soluzione un po' più sofisticata. Siamo convinti che è un prodotto che manca sul mercato, è molto richiesto e che avrà sicuramente, secondo le nostre analisi e nel nostro credo, un riscontro importantissimo. I'll be back.